TuttoFood 2023, siamo in compagnia di Pierpaolo Sichinolfi, il co-fondatore e direttore generale di SGV Infusi Personalizzati. Buongiorno. Buongiorno a lei. È un piacere essere qui. Parliamo innanzitutto della vostra azienda, dei servizi che offrite e delle novità dei vostri prodotti. Grazie a voi per questa intervista. Sì, siamo SGV Service SRL e presentiamo qui a TuttoFood questo nostro ramo industriale dell'azienda che si occupa di produzione di filtri piramidali compostabili con all'interno tè, tisane e infusi di alta qualità in foglia. Questa azienda nasce con l'obiettivo di personalizzare le linee di tè, tisane e infusi per i clienti e di svilupparne anche il packaging a seconda del mercato di riferimento del cliente. Abbiamo investito su una tecnologia di altissimo livello che è la migliore al mondo, quella di Fuso NASA che proviene dal Giappone. Abbiamo una doppia linea completa di confezionamento, questo per garantire ai nostri clienti un backup continuo che è una continuità della produzione nel tempo e utilizziamo delle materie prime di altissima qualità e dei filtri esclusivamente compostabili che derivano dal mais, il cosiddetto materiale PLA. La produzione si avvale anche di un nostro dipartimento di grafica e di sviluppo di marketing per cui riusciamo a completare il packaging del cliente e la linea di prodotto del cliente anche con un supporto legato allo sviluppo grafico, al marketing, al packaging, all'eventuale grafica e cartotecnica che il cliente volesse richiederci. Abbiamo sviluppato anche dei prodotti innovativi creando noi delle tisane e degli infusi particolari come ad esempio quelle con le scorzette di limone di Sorrento IGP e siamo aperti anche alla creazione di prodotti nuovi, innovativi, specifici ed esclusivi per i nostri clienti.